Una notte, come giustamente diceva lei, interamente dedicata al commercio che sarà al centro dell'attenzione non solo della città di Pescara e dei cittadini e di tutti coloro che sono a Pescara per le vacanze, ma dell'intera regione Abruzzo. Abbiamo deciso di fare nel quadrilatero centrale della città una serie di eventi che aglieteranno la serata, ma abbiamo anche deciso di non fare grandi eventi proprio perché il protagonista assoluto della serata sarà il commercio cittadino. Con i negozi aperti fino alle 24 e con tutti gli esercenti che opereranno per strada per rendere la città vivibile in un modo diverso dal solito fino a tardanotte e speriamo in armonia e in serenità. Assessore, Pescara è piena di turisti, c'è molto movimento, è un'estate da numeri quasi record per il Capologo Adriatico? Dai dati che noi abbiamo, anche da Federalberghi, diciamo che abbiamo dei veri e propri numeri da record. Devo dire la verità che questo risultato è un risultato che ormai va avanti da circa due anni. Pescara si sta affermando grazie a una serie di interventi, il primo la bandiera blu, ma anche le iniziative che abbiamo posto sul territorio si sta affermando come davvero la capitale della fascia Adriatico. In questo momento Pescara è piena di turisti e quindi agosto sarà ancora, adesso partirà sia il Willow Fest che il Festival d'Annunziano e quindi avremo un'estate, un agosto davvero pieno 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 di impegni e speriamo di attirare tantissima gente sul nostro territorio così come già fino adesso è.